1.700 bovini sono partiti da Tarragona in Spagna a bordo della nave Eibac e lo scorso dicembre hanno vagato per il Mediterraneo da un porto all'altro. Più di 100 capi sarebbero morti come risulta dalle ispezioni e sarebbero stati fatte a pezzi e gettati in mare dall'equipaggio, come dichiara un gruppo per i diritti degli animali. Molti hanno ferite sulla pelle, code fratturate e corna rotte. La Spagna ha ordinato quest'oggi l'uccisione di 1.600 bovini sopravvissuti tre mesi al viaggio infernale perché non sono idonei all'esportazione ad essere riportati nel paese d'origine. È stata confermata ieri dal Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione Spagnola la decisione dell'abbattimento anche per i bovini presenti sulla nave Eibac. Un centinaio è deceduti sulla nave. I bovini, si è saputo dall'ispezione veterinaria di appunto i veterinari spagnoli, sono stati trovati in uno stato veramente pietoso. Sono dimagriti fino all'osso, deperiti, disidratati e non più in grado, per quanto poco movimento potessero avere, neanche di sedersi, viste le condizioni igienico-sanitarie in cui sono stati ritrovati. Ancora una volta verranno abbattuti. Questa carneficina si aggiunge a quella di poche settimane fa. L'OIPA dunque torna a chiedere lo stop per il trasporto di animali vivi. Si ripensi una dinamica diversa e delle soluzioni alternative al trasporto di animali vivi e questa volta ci auspichiamo che anche le persone venute a conoscenza di questo triste fatto ripensino anche al loro modo di vivere e al loro modo di alimentarsi.